Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei libri dell'avvento. Allora oggi vi faccio vedere il video che ho girato per il mio libro, un libro 2016 ecco. Io avevo fatto questo video anche nel 2015, quindi l'anno scorso, in una giornata in cui aveva nevicato, quindi era stata anche una bellissima giornata. Comunque, fatto sta che anche quest'anno ho voluto regalare un libro al paese, quindi ad uno sconosciuto che lo troverà. E il libro scelto è L'insonnia delle stelle, un libro che è ambientato alla fine della seconda guerra mondiale, quando ormai la Germania è estremata, i francesi sono appunto in terra tedesca e entreranno in contatto con una bambina tedesca che aspetta in vado il ritorno del padre che è andato a combattere al fronte. Un libro che io ho letto e che ho piacere di regalare a qualcuno. Mi scuso fin da subito per le immagini perché purtroppo sono un po' scure. Ho scelto una serata in cui avevamo le prove del musical che però abbiamo già fatto, quindi perché chiaramente questo l'ho girato prima e mi sembrava carino portarmi il libro dietro anche lì e poi lasciarlo in un piccolo parco giochi lì vicino. Però purtroppo essendo sera, perché abbiamo fatto le prove dopo cena, le immagini sono un po' scure. Io spero comunque che riusciate a capire dove ho lasciato il libro e ovviamente non so chi l'abbia potuto trovare e spero comunque di averlo fatto felice. Niente, io vi lascio immediatamente al video e voi mi raccomando continuate a seguire i video dei libri dell'Avvento. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti